Chiamano non senza enfasi il Nobel della Teologia e pur contando solo due edizioni, il premio assegnato dalla Fondazione Vaticana a Joseph Ratzinger vantaggia un credito internazionale che non può non rendere onorato chi ne viene insegnito. Per il 2012 saranno il filosofo francese Rémy Braga e il gesuita statunitense Brian Deley i premiati, due personalità diverse che vantano prestigio personale e studi accademici di grande elevatura. A sceglierli il comitato scientifico composto da cardinali e vescovi, qualità indispensabile per i candidati, l'aver maturato riflessioni teologiche in campi affini a quelli coltivati da Joseph Ratzinger I e Benedetto XVI poi, con rigore e profondità scientifica, canoni in cui rientrano perfettamente i due pensatori che riceveranno il premio direttamente dalle mani del Pontefice il 20 ottobre prossimo. Entrambi li teniamo di grande valore, sia sul piano scientifico, sia della produzione delle idee, sia anche sul piano della testimonianza molto aperta della loro fede cattolica. Rémy Braga è un grande filosofo e storico del pensiero. Brian Deley è uno studioso della patristica, ma è anche un teologo nel senso più pieno e ha impegnato molto anche nel campo della spiritualità e del rapporto ecumenico con gli ortodossi.